Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo episodio del podcast di FA, Fotografia dell'architettura. Io sono Donata Sasso e sono qui con Leonardo Brancaleoni. Ciao a tutti! Questa puntata fa parte di una serie di dieci episodi in cui intervistiamo i protagonisti di Sguardi Contemporanei 2023, il nostro progetto manifesto in cui chiamiamo dieci fotografi d'architettura a darci la loro visione sul tema. Io vi ricordo di iscrivervi al canale YouTube e di ascoltarci su Spotify, inoltre potete trovare tutti quanti i progetti di Sguardi Contemporanei sul nostro sito www.fotografiadellarchitettura.it e sulla nostra pagina Instagram. E quindi adesso non ci rimane che ascoltare le parole dell'ospite di questa puntata. Diamo il benvenuto a Vincenzo Pagliuca. Ciao Vincenzo, grazie di essere qui con noi oggi in questo episodio. Ciao ragazzi! E con questa puntata inauguriamo quindi la nuova edizione di Sguardi Contemporanei 2023. Esatto, bellissimo, è passato un anno e insomma non vedevo l'ora di rientervistare tutti quanti i fotografi, tra l'altro quest'anno è un'edizione bellissima, stupenda. Siamo di nuovo qui, speriamo che non vi siete dimenticati di noi. Questo canale YouTube e di conseguenza anche il podcast qui su Spotify sono delle piattaforme che noi utilizziamo per approfondire appunto i lavori di Sguardi Contemporanei delle varie edizioni. Questa la apriamo appunto con Vincenzo. Vincenzo è un fotografo la cui ricerca artistica si rivolge al territorio e ai segni dell'agirumano su di esso. I suoi lavori sono stati esposti in musei, gallerie, festival di diversi paesi europei, quindi oltre che in Italia, e sono stati pubblicati su riviste e piattaforme di architettura e fotografia. oltre che insomma aver realizzato proprio dei libri fotografici riguardanti la sua ricerca. Innanzitutto, Vincenzo, vogliamo chiederti come sei insomma arrivato a tutto ciò e di parlarci un po' del tuo lavoro da fotografo, ecco. Allora, grazie ragazzi per l'introduzione e grazie per avermi coinvolto in questa edizione di Sguardi Contemporanei. Allora, il mio percorso legato alla fotografia comincia a Napoli, ai tempi dell'università. Io ero studente di economia aziendale a Napoli, quindi ero lì a fare tutt'altro, nulla di attinente alla fotografia, però mi sono avvicinato durante quegli anni all'arte e alla fotografia soprattutto come mezzo di indagine per le periferie cittadine di Napoli che mi attraevano molto. Quell'interesse per la fotografia in quegli anni è cresciuto a tal punto da farmi decidere per un totale cambio di direzione di vita. Infatti, conseguita la laurea in economia aziendale, ho deciso di dedicarmi solo ed unicamente alla fotografia, quindi di abbandonare quel percorso iniziato in ambito economico e di dedicarmi solo alla fotografia che poi è diventata anche la mia professione. Ovviamente durante quegli anni napoletani ci sono state delle opportunità che la città in qualche modo mi ha offerto e che mi hanno sia fatto prendere in qualche modo fiducia in me stesso in quanto fotografo, si è dato anche una formazione in ambito fotografico. Prima e tra tutte fu la partecipazione a un'esperienza laboratoriale che è il Laboratorio Irregolare di Antonio Biesiucci, di cui magari poi vi accennerò qualcosa. Fatto sta che quindi l'interesse nasce in quegli anni per la fotografia anche per la fotografia di architettura. Per quanto riguarda invece la parte che concerne più la mia ricerca personale, questa direi che si rivolge in senso più ampio al paesaggio e come diceva Donata, agli interventi umani sul territorio anche attraverso l'architettura. E da circa ormai un decennio, con le mie ricerche, che prendendo in esame varie singolarità architettoniche presenti soprattutto nelle aree rurali e interne del nostro paese, porto avanti spunti ed elementi di riflessione sulla tematica centrale della mia ricerca che è il tema della casa e dell'abitare. Già in quegli anni universitari a Napoli, stiamo parlando del 2013-2014, questa tematica era al centro di un lavoro che è il mio primo progetto a lungo termine in ambito fotografico, che si chiamava Napoli Nord Caserom, e che era un lavoro di indagine realizzato in due grandi campi rom presenti in quegli anni nella periferia nord di Napoli, nei quartieri di Scampia e Secondigliano, ed era già un lavoro il cui soggetto erano le case, quindi gli interni e gli esterni abitativi. Quel lavoro è diventato recentemente un libro edito da The Velvet Cell nel 2020 e al tempo mi garantì anche l'accesso a questo laboratorio di cui vi parlavo prima, che come vi dicevo è stato un passaggio molto importante nella mia formazione. Il Laboratorio Irregolare è un laboratorio che si tiene ogni due anni e per due anni a Napoli, e questo importante artista napoletano che Antonio Piesucci segue per quel periodo di tempo un gruppo di otto giovani fotografi fino alla realizzazione di un libro e di una mostra, e il tutto avviene in forma completamente gratuita. Questo tipo di esperienza sia mi ha in qualche modo fornito una rete di contatti in ambito fotografico, anche perché io da studente di economia ero piuttosto isolato in questa mia passione, sia mi ha dato un metodo di lavoro che in forma molto molto riassuntiva potrei dire che è soprattutto basato sul rigore, sull'introspezione e sull'autodisciplina. Quindi stiamo parlando degli anni 2015-2017, durante quegli anni io sviluppai, lavorai ad un progetto fotografico a cui sono particolarmente legato, che si chiama Monos, e questo è diventato da meno di un anno, nel novembre 2022, un libro edito da Hartman, ed è attualmente in mostra fino al 3 novembre a Stoccarda, presso la sede di Hartman Books. Monos è un lavoro che a me piace definire come una raccolta di ritratti di case isolate. Sono case che io ho individuato lungo tutta la fascia appenninica dell'Italia meridionale, viaggiando attraverso sei regioni italiane, e sono case molto diverse le une dalle altre, ma accomunate da una particolare atmosfera che potremmo definire sognante, onirica, oltre che da un particolare modo di stagliarsi nel paesaggio naturale. È particolarmente importante per me quel lavoro perché in qualche modo su quel lavoro io lavorando a quel progetto ho individuato le linee guida dal punto di vista del linguaggio fotografico all'interno delle quali io tuttora mi muovo. quel lavoro era basato su una forte uniformità visuale, quindi su un'attenzione molto forte alla composizione delle immagini, oltre che un'attenzione quasi ossessiva alla ricerca di particolari condizioni di luce in cui realizzare gli scatti. Questo lo dico perché sono le stesse condizioni che io poi ho ricercato nel realizzare il lavoro di cui parleremo oggi, che è Bunker e che appunto è presente su Sguardi Contemporanei. Tra l'altro concludendo, durante questa ricerca fotografica che è Monos io ho cominciato a ragionare su quello che è il significato simbolico e psicologico della casa per l'essere umano. Questo tipo di riflessioni rimangono poi alla base anche di quello che è venuto dopo fino ad oggi. Diciamo che Monos è stato un punto di partenza molto forte per la tua ricerca fotografica, ma anche per la ricerca proprio della tua visione, del tuo sguardo sul paesaggio. Sì, sicuramente. Tra l'altro, Napoli Nord Caserom è l'ultimo progetto di ricerca a lungo termine realizzato in digitale. Da Monos io ho iniziato a scattare a pellicola e tuttora utilizzo esattamente la stessa attrezzatura che utilizzavo per Monos. Questa è una domanda che adesso ti faccio così a bruciapelo perché è una domanda che facevamo spesso insomma alle prime edizioni di Sguardi Contemporanei che era qual è l'attrezzatura con cui scatti? Che era sempre una domanda che trovo interessante come da fare a un fotografo perché spesso c'erano delle soluzioni diverse dal solito. Ecco, appunto, se tu sei basato dal digitale alla pellicola con che attrezzatura scatti? Che pellicola parliamo, diciamo? Allora, è un'attrezzatura molto semplice nel senso che è una Mamiya 7 che è una macchina medio formato a pellicola con un'unica ottica, con un'unica focale fissa, quindi senza alcun tipo di zoom. È un unico tipo di pellicola che è il Port 360. La Mamiya 7 è una macchina che offre una grande qualità, ha delle lenti eccezionali insomma, ma allo stesso tempo è molto molto maneggevole. Quindi dal momento che spesso mi trovo a camminare tanto, a cercare determinati luoghi e soprattutto nel progetto dei bunker anche a dover percorrere insomma sentieri piuttosto lunghi e impegnativi, il fatto di poter avere una macchina leggera e maneggevole chiaramente usata sempre con il cavalletto è una buona soluzione. Le case di Monos e in alcuni casi anche i bunker, non sempre, sono tutte scattate anche usando un cavalletto molto alto e un scaletto, perché volevo che queste strutture fossero perfettamente al centro dell'inquadratura. Per ottenere ciò dovevo alzare il mio punto di vista. Perciò parlo di ritratti di case, perché in qualche modo queste case sono inquadrate come si inquadrerebbero dei volti. Sì, sì, è vero, è vero. Effettivamente adesso linkeremo qua sotto in descrizione comunque il sito internet ovviamente di Vincenzo dove potete vedere anche il progetto di Monos e si vede tantissimo questo che dici tu, cioè che sono state scattate queste case e anche i bunker proprio come se fossero dei volti. Infatti tra Monos e successivamente bunker che potete trovare sul nostro sito www.fotografia.it www.architettura.it e sulla nostra pagina Instagram c'è questa forte somiglianza che ormai è diventato quasi la tua firma, se vogliamo, permettimi questo paragone, questo termine. Io appunto ti chiederei adesso di raccontarci com'è nato Bunker, cioè come sei passato da Monos, dalla tua ricerca appunto su Monos, poi a parlare di un tipo di abitazione che non è una vera e propria abitazione, ovviamente però è un luogo dell'uomo, cioè nel senso sono un luogo particolare anzi. Sì, allora, tutto è capitato in maniera piuttosto casuale perché il lavoro è cominciato nel 2018, io prima di allora non ero mai stato in Alto Adige, però il tutto è cominciato perché un curatore, un amico che è Michele Fucic, che vive a Bolzano, al tempo mi invitò a partecipare a una residenza artistica in Alto Adige, in un paesino che si chiama Glorenza, e che è un posto che vi invito a visitare, è un posto incredibile, è un paesino medievale fortificato al confine occidentale dell'Alto Adige, quindi a due passi dal confine con la Svizzera. Lì, passeggiando poco fuori dal centro abitato, mi imbattei in queste enormi calotte di cemento armato che si stagliano in un paesaggio particolarmente ameno tra i frutteti e a due passi dal fiume Adige. Rimasi profondamente colpito da queste strutture che fotografai, strutture che erano tutte, in quel caso, a calotta e che fanno parte di quello che era denominato sbarramento Malle-Sclorenza, vale a dire un gruppo di bunker posizionati lì per sbarrare l'accesso alla valle da un'eventuale invasione nemica. Tra l'altro, quel gruppo di bunker sono quelli che avete pubblicato sulla pagina Instagram di fotografia dell'architettura qualche mese fa. Esatto. Infatti, la cosa particolare, scusa se ti interrompo Vincenzo, è proprio abbiamo deciso di iniziare Sguardi Contemporanei con un progetto che è presente in piccola parte, diciamo un'anteprima quasi, su Almanac, sul nostro altro progetto, quello diciamo digitale, che viene fuori un progetto fotografico ogni giovedì sulla nostra piattaforma. Quindi, sì, ci fu subito da parte mia grande interesse per quelle architetture anche dal modo in cui si stagliavano monolitiche nel paesaggio e dal modo anche in cui queste in qualche modo si fossero riassorbite nel paesaggio stesso. Comunque, in qualche modo sono diventate parte del paesaggio. Solo una volta rientrato a Bolzano facendo delle ricerche in biblioteca ho scoperto facilmente che diciamo sono venuto a conoscenza, ho scoperto, non è il termine adatto, del fatto che in Alto Adige quello sbarramento Malles-Glorenza era solo uno dei 26 sbarramenti, quindi gruppi di bunker presenti. Sono tutti bunker risalenti agli anni a ridosso dello scoppio della Seconda Guerra Mondiale e facenti parte di un sistema difensivo molto ampio che riguardava tutto l'arco alpino e voluto dal regime fascista per proteggere il confine italiano dai paesi limitrofi. Una parte sostanziosa di quel sistema era localizzata in Alto Adige dove il regime progettava la costruzione di circa 800-900 bunker di cui al momento dello scoppio della Seconda Guerra Mondiale erano completi più di 300 e un altro centinaio era in corso di costruzione. Chiaramente allo scoppio della guerra il sistema era incompleto questi bunker non sono mai stati utilizzati in nessun evento bellico di rilievo anche perché al momento dell'inizio del conflitto erano disarmati gran parte degli armamenti erano stati inviati al fronte quindi per questo e da altri motivi non sono mai stati utilizzati ciò nonostante sono rimasti presidiati dall'esercito fino al 1993 perché in qualche modo identificati come strategici durante tutto il periodo della guerra fredda dal 93 la proprietà dei terreni è ritornata alla provincia autonoma di Bolzano che a sua volta in molti casi ha ceduto i terreni a privati cittadini che a quel punto ne hanno fatto hanno fatto dei bunker religiosi più svariati soprattutto legati all'agricoltura in alcuni casi sono diventati dei depositi agricoli in altri delle cantine per la stagionatura dei vini o dei formaggi in altri casi sono stati ricoperti dal terreno per permettere il passaggio dei mezzi agricoli o di una strada io trovo dal punto di vista fotografico interessantissimo questo riutilizzo di architetture belliche a fini civili ed agricoli e infatti nella selezione che ho realizzato per sguardi contemporanei ci sono alcune strutture in cui risulta evidente insomma questo questo riutilizzo alcuni dei bunker sono rimasti stato d'abbandono dal 93 altri ancora sono stati abbattuti purtroppo ed altri sono stati interessati dalla tutela da parte della provincia autonoma di Bolzano quindi sono in alcuni casi stati ripuliti e sono accessibili ai visitatori agli escursionisti in altri casi sono diventati dei musei o delle gallerie d'arte io credo che sia importante tutelare queste strutture perché in qualche modo queste strutture sono testimoni e custodi della memoria di un periodo drammatico di storia europea preservandole noi in qualche modo preserviamo questa memoria tra l'altro da un punto di vista più strettamente architettonico sono degli edifici molto molto interessanti perché sono i primi edifici costruiti in monoblocco di cemento armato e in un certo modo questi edifici hanno con la loro estetica segnato una parte del gusto estetico dell'architettura del novecento mentre su un piano diciamo più personale come abbiamo anticipato all'inizio quello che mi attrae di queste strutture è il fatto che in qualche modo si riconnettano a questa idea archetipica di casa quindi di rifugio di tana e in qualche modo quindi si riconnettono anche in quello che io cercavo con il progetto Monos tra l'altro credo che una condizione che accomuna queste strutture a quelle di Monos sia anche una particolare condizione di vuoto che io direi che rende queste strutture disponibili ad essere abitate da una proiezione di noi stessi quindi disponibili alla nostra immaginazione è vero dà molto questa impressione sì altri elementi di interesse sono le tecniche molto diverse di mimetizzazione di queste strutture che variano tanto a seconda dell'orografia del territorio io quando ho fotografato i bunker dello sbarramento ma all'esclorenza francamente ho pensato è molto interessante ma finisce qui nel senso che questo lavoro potrebbe essere molto noioso se sono tutti così molto simili tra di loro invece poi di volta in volta mi sorprendevo nel trovare delle strutture sempre nuove sempre diverse dove veramente si usavano le tecniche di mimetizzazione più differenti dalla rete metallica su cui veniva colato il cemento a creare della finta roccia alle mimetizzazioni sulla calotta che permettevano insomma la crescita della vegetazione addirittura alle coperture a forma di fienile o di casa e di cui alcune sono ancora presenti e visibili c'era una un chiaramente uno studio diciamo architettonico durante la guerra importantissimo questa cosa della mimetizzazione ci sono ci sono studi per quanto riguarda creare edifici tipo i bunker che diventassero invisibili e si perdessero nel territorio tantissimo e vi posso assicurare che a volte è molto difficile individuarli anche a pochi metri di distanza spesso mi sono tornate utili le coordinate gps o per poi trovare i vari siti pazzesco questo aspetto una cosa che mi ha incuriosito e secondo me molto interessante di cui hai accennato insomma mentre descrivevi il tuo approccio il tuo lavoro adesso forse hai utilizzato autodisciplina cioè l'autolimitazione dei mezzi espressivi che caratterizza il tuo lavoro e ancora di più se lavori con la pellicola quindi in analogico con una macchina di medio formato cioè questo influenza molto il tuo approccio nel senso scatti poco immagino assolutamente visto che c'è una ricerca dello scatto perfetto più dello scatto insomma corretto rispetto alla tua idea molto più lenta rispetto a un mezzo digitale insomma e per questo ti volevo chiedere in relazione magari nello specifico a bunker proprio per questa ragione sei abituato a studiare prima i luoghi dove devi andare a fotografare o ti dedichi più all'esplorazione una volta che arrivi sul sito allora no questo aspetto dell'autodisciplina è fondamentale ed è qualcosa che come vi dicevo nasce da quell'esperienza del laboratorio irregolare non quasi mai scatto la foto utile la prima volta che visito una struttura c'è sempre una ricerca dei luoghi che avviene prima a casa insomma su libri o insomma nei modi più diversi e poi c'è magari una passeggiata che faccio per individuare effettivamente i luoghi e per cercare poi di andare miratamente a fotografarli quando le condizioni di luce sono adatte sia per Monos che per i bunker ciò che ho ricercato è una luce molto diffusa che permettesse la completa leggibilità delle superfici di queste strutture credo che ciò le renda ancor più degli elementi scultori monolitici nel paesaggio quindi totale assenza di ombra questa è una luce che si può avere quando il cielo è completamente coperto spesso in inverno quindi questi luoghi diventano spesso per me anche dei luoghi di ritorno luoghi che io frequento e con i quali si crea una familiarità sia con i luoghi che con il territorio e credo che quel tipo di familiarità che richiede mesi sia fondamentale per me nella realizzazione del lavoro certo tutto un lavoro di tempo di tempistiche di scelte del momento io credo che sia l'attesa di queste condizioni di luce insomma anche i fallimenti nel senso i viaggi che si fanno a vuoto l'attesa che è legata all'uso della pellicola quindi tra il momento dello scatto e il momento dello sviluppo siano delle attese utili perché stimolano le riflessioni quindi anche tutte queste riflessioni sul tema dell'abitare del significato simbolico che ha per ognuno di noi la casa io credo che siano nate anche da questi da questi tempi lunghi oltre inoltre chiaramente questa attenzione alla luce che per me è fondamentale sin da Napoli Nord da Serom credo sia ciò che più di tutto dà un'uniformità all'intero progetto quindi forse fa fare alla ricerca quel passo in più che va oltre la mera documentazione perché effettivamente un progetto come quello dei bunker laddove dovesse essere un progetto di mera documentazione si potrebbe fare in un mese non le strutture si individuano facilmente insomma e si tra un mese di tempo mi metto lì catalogo scatto e ho fatto tra virgolette è un territorio vasto fino a un certo punto insomma ma si si vede dagli scatti che c'è quasi una dimensione emozionale del rapporto che tu hai con i soggetti cioè quasi come appunto tu dovessi permettimi di interpretare almeno da parte mia questa cosa entrare in relazione con le architetture come fossero e fargli un ritratto come fossero delle persone delle persone ma credo che questo aspetto sia fondamentale perché in questo modo io credo che le foto realizzate parlavamo prima dei ritratti diventino qualcosa non solo a mio uso e consumo ma anche che si si possano aprire agli occhi di chi le guarda in qualche modo diventare soprattutto le case degli specchi per chi le guarda quindi in questa loro dimensione sospesa anche mantenersi aperte alle riflessioni del fruitore delle immagini questo è il mio auspicio più grande che le foto possano aprirsi agli occhi di chi le guarda e fornire delle suggestioni dei significati che magari io non non avevo visto anche differenti da quelli che che io trovo verissimo anzi sono parole sono parole stupende e anzi direi che su queste parole bellissime che che ci ha detto Vincenzo che ci ha raccontato il suo modo di fotografare il suo modo di fare fotografia possiamo salutarci salutiamo Vincenzo e lo ringraziamo per essere stato qui con noi alla diciamo prima puntata di quest'anno di Sguardi Contemporanei grazie mille Vincenzo di essere stato con noi grazie di cuore ragazzi grazie a tutti coloro ci hanno ascoltato noi salutiamo tutti i nostri ascoltatori li diamo appuntamento alla prossima settimana con una nuova puntata di Sguardi Contemporanei a presto ciao a tutti